Morgan e Ambra la controversia per Edoardo il veterano giudice. Con 5 vittorie su 7 inviti come giudice. E l'ex presentatore di Nonerai. Nella sua seconda partecipazione. Ha acceso la discussione sul talento del concorrente. Per Morgan. La performance di Edoardo. Che ha portato danza rubatà di Milky Chance personalizzato con il suo verso in italiano. Ormani sei lo stesso. Il commento del giudice che. Tuttavia. Ha innescato la reazione di Ambra. Invece colpita dall'abilità della classe 96. C'è un po' di ipocrisia solo in questo perché è bello. La risposta dei piccioni dell'Angiolini. Hai ragione. Il pugno del collega. Ma il contraccolpo non è stato a lungo in arrivo. Al contrario no. Non dici che hai ragione. Se lo fai mi diminuisci. Non hai una voce. Si muove bene. Cosa gli è mancato. Discussione che alla fine si è concluso con 3 sì e il no di Fedez.